Bella a tutti ragazzi, amici del canale e supporters bianco-azzurri, qualcosa si è smosso, perché Tupta non è più un giocatore del Pescara, Tupta torna allo slogan, cita la notizia poco fa, forse mi hanno sentito da qua, non lo so, ma fuori uno, cioè voglio dire fuori uno, perlomeno per me quello che meno c'entrava qua nella squadra, quello che proprio avrei voluto far fuori, fuori uno, dal nulla, così di punto in bianco, ieri giocava titolare, oggi seduto, pazzesco, come è possibile, cioè può succedere, ma non è una cosa molto che accade spesso, diciamo, non è una cosa che accade tutti i giorni, e adesso abbiamo un attaccante in meno, abbiamo una punta in meno, o Sebastiani già ha un giocatore tra le mani, oppure quella che, per cui io spero, torna alle scane, che altra spiegazione uno si dovrebbe dare, hai tolto una punta che era titolare fino a ieri, l'hai venduta, di colpa l'hai fatta tornare alla squadra dove stava prima, a gennaio, manca giugno, a gennaio, e adesso chi metti punta, titolare, Vergani, ok, ma dopo una volta, Vergani lo devi togli dopo un po', soprattutto se continuano a giocare così, male, cioè, io non riesco a crederci, sembra che ci abbiano sentito, sembra che qualcuno ci abbia sentito da qua, cioè sembra che qualcuno mi abbia sentito e mi abbia dato ragione, tupta deve essere tolto, cioè io ho detto sempre, tupta non mi piace, non c'entra niente, non ho detto lo dobbiamo vendere, perché sinceramente non ci credevo che l'avrebbero venduto adesso, però, eppure, è successo questo, l'hanno venduto adesso, pazzesco, adesso raga, adesso bisogna ripartire, perché se tu mi levi tupta, ripeto, o mi metti, cioè mi metti Vergani, ma dopo Vergani sta l'escano, ma non penso che tu mi metti delle monache, cupone, quell'altro nome che abbiamo preso, dalla Juve, ma non esista un altro mezzo termine, a meno che non arriva un altro giocatore nuovo, ho riuscito a ripartire o niente, e ragazzi io sto un po' così, per Colombo, perché secondo me, la pazzia, vedi, la pazzia, io ieri, nel video di ieri ho detto, non mi stupirebbe se il Sebastiani esonerasse Colombo di punto in bianco, perché? Perché è casissimo, a casissimo, non lo so perché l'ha venduto, cioè, vedi che ci sta un qualcosa dietro, cioè, ma lo vedi, tu vendi un giocatore, tu togli al mister nostro, un giocatore che fino a ieri metteva in campo dal primo minuto, e glielo levi di così, di colpo, vedi che ci sta qualcosa che non mi torna a me, cioè, qualcosa che non mi torna, ma dai, ma non è possibile, cioè, non è possibile, è possibile, però uno non ci crede, non ci crede a primo impatto, deve esserci qualcosa sotto, ecco perché dico, io me lo aspetto, io me lo aspetto l'esonero di Colombo, domani, dopo, no, mercoledì gioca il Pescara, ma è contro il Monterosi, vuoi vedere che quella partita risulta decisiva? Vuoi vedere che se Colombo non vince, salta Colombo? Vuoi vedere? Secondo me è possibile, conoscendo il precedente, vedi che succede? Togli i giocatori di colpo, allora io mi aspetto puro che tu esoneri l'allenatore di colpo, anche perché Colombo ha vinto contro Viterbesi, ha vinto contro il Monopoli, ma sono passati due mesi, oh, siamo a febbraio praticamente, sì, adesso l'ultima partita, sì, l'ultima partita, ma mercoledì è oggi il 30, domani il 31, mercoledì è il primo, cioè, se non vince neanche mercoledì, anche perché lui ha detto che non è a rischio, non è nemmeno a rischio, cioè, se non è mercoledì la partita decisiva è sabato se non vince quella di mercoledì, no, domenica, no sabato, domenica. Terremoto, io lo definirei un terremoto questo, ma non, insomma, magnitudo non tanto alto, però comunque un mezzo terremoto, perché di colpo tu allevi un giocatore al mister che tu hai confermato, gli stai dando ragione, cioè gli stai dando ragione, un mister che non ti mette un giocatore che ti faceva portare a casa i punti a inizio campionato, no, di punti in bianco non lo, non mette più quel giocatore, adesso non si sa perché, forse non è manco una scelta sua, forse è una scelta della società, forse è successo qualcosa nello spogliatoio, però comunque, un giocatore viene messo quasi fuori rosa, non viene fatto più giocare, tu, così, levi un altro, levi un giocatore che il mister metteva a titolare, e adesso? Adesso chi mette? Adesso per forza, o se è sbloccato qualcosa, o se no non mi spiego, bah, staremo a vedere, staremo a vedere, piccola premessa, oggi video corto, ci vediamo mercoledì per il commento di Monterosi Pescara, e in settimana, se riesco, un video su Colombo, bello.